Buonasera amici sportivi, un appuntamento con Focus Ritiro per tutte le news che riguardano il Benevento Calcio in Austria per la preparazione alla nuova stagione in Serie A. E direttamente da Sifild abbiamo in collegamento Arthur Ionita, arrivato dal Cagliari, centrocampista di grande qualità, ben visto soprattutto dai tifosi che hanno accolto con grande entusiasmo questo colpo targato Foggia. Buonasera Arthur. Ciao, buonasera a tutti. Allora ci facciamo un po' questa chiacchierata per farti conoscere, per presentarti alla piazza Sannita, sei impegnato da qualche giorno, come ti stai trovando? Ecco con il gruppo hai già familiarizzato, tra l'altro una vecchia conoscenza, Sau, possiamo dirlo? Sì, certo, c'è Marco Sau che mi aiuta tantissimo, però non credo che sia una difficoltà perché ho trovato una squadra, un gruppo molto unito che mi dà più carica per iniziare questa stagione. Ecco, com'è il clima che si respira in ritiro? Sicuramente ecco c'è voglia di prepararsi al meglio per un campionato difficile. Sicuramente difficile, sì, tutta la squadra, tutti i compagni vanno a mille, stiamo facendo una preparazione importante con il gruppo dei nostri preparatori, quindi... Siamo sulla strada giusta e positivi. Come ti trovi ecco con Pippo Inzaghi, è stato indicato un po' da tutti, dai tuoi compagni per la stagione che si è appena conclusa come un grande motivatore, sicuramente avrai anche tu seguito le gesta del Benevento che ha dominato letteralmente il campionato di B, al di là insomma delle difficoltà che conosciamo con tantissimi record. E come ti trovi con Pippo Inzaghi, è stato indicato un po' da tutti, anche dai tuoi compagni di squadra come un grande motivatore, l'arma in più per la stagione che si è appena conclusa, sicuramente ecco lo potrà essere anche per il nuovo campionato. Sì, mister, è molto importante sul gruppo perché come ho detto abbiamo un gruppo molto unito e questo che mi fa tanto piacere di quello che ho trovato qua. Poi con il mister ovviamente ci siamo sentiti prima di arrivare in ritiro e non è servito tante parole e lo ringrazio a lui e la società e adesso ovviamente tocca a me per ringraziarle in campo. Sicuramente insomma le fatiche in ritiro si fanno sentire come giusto che sia, ecco ma la tua condizione fisica a che punto è? Con la preparazione sono un po' in ritardo rispetto ai miei compagni perché sono arrivato il 19 se non sbaglio, poi abbiamo aspettato i risultati del test, poi ovviamente abbiamo iniziato. Sono 3-4 giorni che sono al completo con la squadra e non c'è tanto tempo però proviamo e dobbiamo lavorare al massimo in questo periodo che siamo qua in ritiro. L'obiettivo di questo mercato che sta guidando la società è quello di individuare delle figure che siano versatili. Conoscendo un po' le tue caratteristiche ci puoi dare conferma, puoi giocare come mezzala ma anche come trequartista. Insomma sei un giocatore eclettile anche per un modulo che ancora non conosciamo ma credo insomma che Inzaghi ne preparerà più di uno per questa serie A. Ecco se ci confermi un po' le tue caratteristiche, ti presenti un po' alla piazza per farti conoscere meglio. Sì, sono più una mezzala che un trequarti però ovviamente sono a disposizione per qualsiasi ruolo quindi ovviamente adesso il mister mi farà capire tutte le situazioni, tutti i movimenti che si devono fare quindi sono tranquilli su questo e ne sono sicuro che ci troveremo di lessa soddisfazione. Beh, Viola, Schiattarella e Temai si parla addirittura poi si vedrà di Buonaventura, sicuramente un reparto importante con compagni di esperienza, non mancherà la competizione che è quella che serve. Sì sì, sicuramente sì. Sono giocatori che già li conosco, sono giocatori di esperienza e di qualità e poi ovviamente per il mercato di quello che si parla si occuperà il direttore spettivo. Vieni dal Cagliari, un obiettivo importante è stato raggiunto quello della salvezza con qualche difficoltà però insomma alla fine il Cagliari ce l'ha fatto. Un po' questo l'obiettivo a cui guarda il Benevento per la nuova stagione, cosa servirà secondo te per poter tagliare il traguardo? Anche perché non è mai facile soprattutto per le neopromosse salvare la categoria? Sì sono d'accordo, niente facile, ovviamente niente scontato però dobbiamo togliere tutto il massimo dell'ogni partita di raggiungere il nostro obiettivo e quello della salvezza. Come sappiamo tutti, non sarà niente facile però con questo grande entusiasmo come ho detto ci possiamo togliere le associazioni. Prima hai detto, insomma hai confessato che c'è stata la telefonata di Pippo Enzaghi proprio prima del tuo arrivo. Puoi insomma svelarci un po' i segreti di questa trattativa? È stata lunga? È stata una trattativa lampo? Come si è svolta? Allora della trattativa non vi posso dare i dettagli perché ovviamente io ho detto al mio procuratore ti occupi tu di questo e fammi sapere quando devo fare le valigie. Quindi è stato proprio così. È stato il giorno del mio compleanno quando lui mi ha chiamato mi ha detto che ci stavano così. Poi ovviamente io il giorno dopo sono andato a Caler mi sono preso le scarpe e niente. Ero con le valigie pronto per venire in ritiro. Ebbè Glick, Ionita, Fulon, insomma inizia a muoversi qualcosa di importante. Le premesse sono buone anche perché l'obiettivo era quella di impreziosire una rosa mantenendo l'organico per quello che ha fatto in Serie B. Effettivamente insomma si respira anche lì in Austria, Seafield, questa voglia di far bene con l'arrivo appunto di giocatori di grande esperienza. Sì, come ho detto ho trovato dei miei compagni che vanno a Mille che sono stato molto sorpreso di come sono proprio loro ma fuori campo. E' una vera famiglia. Poi come abbiamo detto c'è Marco che mi aiuta ancora di più. E poi c'è il nostro direttore che ci pensa per mercato di rianforzare la nostra squadra. Sì, Marco Sau ti aiuta che poi non è poi così taciturno come diciamo appare in tv. Insomma ci hanno detto che è comunque una persona che scherza molto, anche un po' socievole tra virgolette. Quindi sicuramente ti sta dando una grande mano, confermi, è uno con cui si può parlare. Qua tutti scherzano. Quindi si scherza, c'è un ottimo clima. Senti, cosa ti senti di dire ai tifosi Sannita? Sanniti dai, due parole, sicuramente felice di indossare la maglia del Benevento. Cosa ti senti di dire loro? No, ma prima di tutto vorrei ringraziare tutti per quei messaggi che ho ricevuto, per il benvenuto e come ho detto adesso tocca a me di ringraziare tutti in campo. Perfetto, allora grazie, grazie ad Artur Ionita e in bocca al lupo. Buonasera. Bene, buonasera, ringraziamo Artur Ionita, l'avete ascoltato. Grande entusiasmo, grande voglia di far bene per un obiettivo importante, quello del Benevento che è il raggiungimento della salvezza, obiettivo dichiarato. Poi insomma si vedrà la voglia di Inzaghi, anche quella di stupire e gli acquisti finora insomma fanno ben sperare. Proprio in giornata è stato ufficializzato anche l'acquisto del belga Fulon, come vediamo appunto nelle immagini il suo arrivo a Seafield accolto dai tifosi presenti sul posto ma anche dalla squadra. è una squadra, un gruppo molto unito, lo ha confermato lo stesso Ionita, anche perché non ce lo dimentichiamo, l'intento è quello di mantenere l'ossatura perché il campionato che è alle spalle, quello della Serie B, è stato veramente conquistato con grande maestria, con grande esperienza, tra una serie di record. ci si allena in serenità, chiaramente arrivano anche buone notizie in giornata perché non ci sono nuovi contagi, nuovi positivi al Covid, quindi sono tre i calciatori del Benevento colpiti dal coronavirus, quindi insomma sicuramente è importante che oggi non ci siano notizie a tal proposito. Per quanto riguarda il mercato, anche perché insomma il Benevento dovrà fare ancora altri acquisti per potenziare quelli che sono tutti i reparti, quindi ci si aspetta ancora qualcosa a centrocampo, ma soprattutto in attacco, dove bisogna ancora mettere a segno il primo colpo, dopo ricordiamo insomma che è sfumato definitivamente quello di Remy. A centrocampo è tornato a far parlare di sé Bonaventura, nuovamente insomma accostato al Benevento, perché in un primo momento, in un primo contatto con Pasquale Foggia, il calciatore aveva dichiarato di non voler scendere al sud per motivi di famiglia. Pare però che ci sia stato un nuovo approccio, un nuovo contatto, insomma il calciatore potrebbe ripensarci ed accettare a questo punto la proposta del Benevento. Molto corteggiato da Pippo Inzaghi, va sempre dichiarato l'allenatore del Benevento che lo vorrebbe alla sua corte, Foggia è in attesa di una risposta definitiva, sicuramente non ha fretta a tal proposito anche perché il tempo c'è tutto. e lo scopo è quello di individuare le figure giuste, magari aspettando un pochettino, anche se non ci dimentichiamo, che l'obiettivo è quello di mettere già dal ritiro a disposizione di Inzaghi una buona ossatura della squadra per la preparazione alla nuova stagione, però è anche vero che per determinati acquisti è indispensabile anche mettere a conto un certo periodo di tempo. Per quanto riguarda l'attacco non cambiano gli obiettivi, quindi ecco si lavora sempre su due piste che sono quelle di Gervinio, di proprietà del Parma e di La Padula del Genoa. Insomma sono obiettivi, possiamo dire, oramai vecchi, il Benevento li sta seguendo da un po' di tempo, ci sono insomma delle problematiche, non è così semplice, non sono così semplici queste trattative come poteva essere insomma nelle previsioni iniziali, però assolutamente Pasquale Foggia non demorde, non fa dietro fronte, quindi va avanti su queste due piste, La Padula un po' più avanti di Gervinio, insomma non escluso che nei prossimi giorni ci possa essere una buona notizia. Si è fatto anche il nome di Pavoletti, proprio perché ricordiamolo di proprietà del Cagliari con l'affare Ionita, la società Sarda ha proposto anche questo calciatore, le cui qualità insomma non si discutono, però è anche vero insomma che viene da infortuni seri, per cui il Benevento Calcio vuole capire bene la condizione fisica, anche perché l'obiettivo è quello di impreziosire la rosa con giocatori di esperienza sicuramente, ma anche con giocatori che hanno un'ottima condizione fisica, che siano già pronti per l'inizio di campionato, quindi non si esclude a priori la pista Pavoletti, però il Benevento vuole capire anche l'evolversi delle altre due trattative che abbiamo appena menzionato, che sono appunto quelle di Gervinio e di La Padula, quindi un innesto ancora a centrocampo, in avanti sicuramente saranno fatti due colpi, Pasquale Foggia che ricordiamolo non è in ritiro, ma è stato qualche giorno a Milano ed è continuamente al lavoro proprio per ultimare il mercato del Benevento, non è facile in questo periodo, ci sono ancora anche tanti dubbi sulla possibile partenza, un po' per quello che sta accadendo non solo nel Benevento Calcio, ma in tutte le società dove è la situazione del Paese. che non fa ben sperare, quindi ci sono un po' dei dubbi, ma allo stesso tempo la voglia è quella di lavorare in tranquillità, in serenità e di prepararsi al meglio per quella che è una stagione sicuramente complicata. Inzaghi sta provando diversi moduli, non è stata ancora tracciata una strada giusta, ma lo conosciamo benissimo, è un allenatore versatile sotto questo punto di vista, basti pensare che ad inizio campionato si puntava ad un 4-4-2, poi con l'infortunio di Schiattarella. L'arrivo di Etemai, per non rinunciare a nessuno dei due, proprio per puntare su quella che era la forza del centrocampo, formata proprio dal trio Viola-Schiattarella-Etemai, ha deciso di passare all'albero di Natale, che tra l'altro aveva conosciuto bene come calciatore, avendo avuto come allenatore Ancelotti, un modulo che ha portato i frutti sperati assieme al 4-4-2, qualche volta in momenti di difficoltà, nei minuti finali è passato anche ad una difesa a tre. Quindi è la dimostrazione che un allenatore, scusate che sotto questo punto di vista, non si pone ai dei limiti, per cui aspetterà anche i nuovi arrivi, vedrà quello che arriverà dal mercato per poter tracciare la linea guida, per poter dare un'identità a questa squadra, che dovrà far leva soprattutto sulla forza caratteriale, su quell'entusiasmo, ed è un aspetto molto importante, quell'entusiasmo che ha accompagnato la stagione in Serie B, partendo dal presupposto che sicuramente le difficoltà nella massima serie saranno maggiori. Per questo il Benevento non ha voluto rinunciare al ritiro, proprio perché l'aspetto più importante, più volte sottolineato da Inzaghi, ecco, per il cammino del Benevento in cadetteria, è stato proprio quello dello scorso ritiro. È lì che sono state gettate le basi per un progetto importante, da cui la decisione di non rinunciare a questo momento di condivisione per tutto il gruppo, e la voglia di partire anche con anticipo per farsi trovare pronto, sfruttando anche il fatto che il Benevento era riuscito ad ottenere la conquista della promozione con largo anticipo. Ecco, sono queste le novità, prosegue anche domani, ci saranno delle sedute di allenamento, prosegue con grande entusiasmo il direttore sportivo Pasquale Foggia è continuamente in contatto con il presidente Vigorito, sicuramente la settimana prossima ci sarà un confronto tra i due per definire meglio le strategie di mercato, le idee sono comunque chiare, si va avanti per quella strada sempre di concerto con l'allenatore che anche lui si sente quotidianamente con Pasquale Foggia. Queste sono le novità, l'appuntamento con Focus Ritiro è per domani sera, ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.